L'estremità laggiù. Ma non può, la spiaggia è nostra. Purtroppo l'estremità laggiù appartiene a lui, dissi, allo squalo, che qui ha comprato tutto. Già il padre dello squalo comprò da nostro nonno poco prima della guerra il terreno sulla spiaggia a nord. Era un italiano americano che aveva fatto i soldi nel Connecticut, ma sembrava che non avesse nessun progetto per quello che aveva comprato, salvo quello di costruirsi una casa al mare. La nostra famiglia allora aveva bisogno di soldi e adesso non dobbiamo rimpiangere di aver venduto quel terreno. Magari nonno non avrebbe dovuto consumare tutto quel denaro. Mio fratello fissò lo sguardo verso l'orizzonte, verso il terreno che era stato nostro. Sarà grande il centro vacanze che lo squalo sta costruendo? Quanti villini avrà? La sua voce esprimeva indignazione. Dicono che avrà una cinquantina di villini. Quello che non ammetto di te, disse mio fratello, è la tepidezza con cui accetti questa invasione come se non ti riguardasse. Certo che non mi riguarda. Quella proprietà non è più nostra. La nostra famiglia non aveva più denaro e l'ha dovuta vendere a quattro soldi allo squalo. È la tua rassegnazione che mi dà fastidio. Non è rassegnazione, è il riconoscimento che tutto è giusto. Ma come tutto è giusto, reagì mio fratello. Tutto è giusto. Il nonno si era mangiato al gioco e con le donne tutto il patrimonio suo e della nonna e non aveva mai lavorato. Poi pentito, si era avvelenato. Ma perché ricordi queste cose della nostra famiglia? Perché anche la nostra famiglia ubbidisce alla legge, per cui tutto ciò che accade è giusto, ripetei. Noi non ci capiremo mai, mi licenziò una volta di più mio fratello.